Buonasera a tutti vedo che i partecipanti stanno aumentando a questo evento intanto vi do il benvenuto all'evento dal titolo un sogno alla velocità della luce e io mi preoccuperò di di moderare condurre l'evento quindi in questo momento vedete solamente me ma poi presenti qui con me che compariranno durante la durata appunto dell'evento stesso ci saranno altri relatori altri partecipanti che interverranno a cui io darò la parola e intanto finché appunto aspettiamo che si colleghino le varie persone vi racconto brevemente in cosa consisterà l'evento allora come sapete questo è un evento che si rivolge sia agli adulti che anche a ragazze e ragazzi infatti abbiamo ideato durante l'evento dei piccoli momenti anche interattivi a cui anche i più piccoli possono partecipare quindi vi chiederemo di partecipare ad alcuni momenti specifici di questa iniziativa ed è un evento che nasce con l'obiettivo di raccontare la storia e contenuti del libro l'ultimo libro uscito appunto il sesto della collana storie libere che cartusa edizioni pubbliche collaborazione con l'università di padova in occasione delle 800 anni che l'ateneo compie nel 2022 libro dal titolo un sogno alla velocità della luce scritto da quella nava illustrato da marta pantaleo tra l'altro abbiamo avremo emanuela nava collegata con noi che quindi poi avrà l'occasione di raccontarci qualcosa in più su questo libro allora come io non spendo altre parole per questa collana poi avremo modo di parlarne anche riguardo a questo titolo quindi entreremo sempre di più questo in questo libro che vi dico solo che parla e dedicato al matematico Tullio Levi Civita che è stato un matematico che ha dato un contributo fondamentale con i suoi studi a una delle più grandi teorie della storia della scienza di tutti i tempi la teoria della relatività generale di Albert Einstein quindi anche con alcuni che avremo oggi avremo modo di scoprire perché e come quindi lascio subito la parola per un primo intervento e un saluto alla professoressa Annalisa Oboe docente dell'ateneo di Padova e direttrice del centro d'ateneo Elena Cornaro dovremo averla con noi buonasera professoressa benvenuta buonasera buonasera grazie Agnese buonasera quindi lascio un attimo a lei la parola per introdurci all'evento e un po' all'iniziativa all'interno della quale si colloca si inserisce questo evento benissimo grazie buonasera a tutte e a tutti benvenute a questo incontro di storie libere che è un progetto dell'università di Padova per concepito all'interno dei progetti per le celebrazioni degli 800 anni della nostra università che appunto è nata nel 1222 che nel corrente anno accademico festeggerà otto secoli in questi otto secoli il il tema fondante che ci ha fatto riconoscere in questa istituzione che ha sorretto la ricerca che ha sorretto la didattica che ha sorretto il nostro modo di parlare con il mondo là fuori è stato un senso di libertà di grande libertà che ha caratterizzato il nostro teneo fin dall'inizio e che è al cuore della nostra missione quando abbiamo pensato ai modi di coinvolgere tutta la città e la nostra nazione possibilmente nelle nostre celebrazioni abbiamo pensato alle persone che potevano sapere di noi e potevano non sapere di noi e soprattutto abbiamo pensato ai bambini ai ragazzi alle ragazze e alle bambine che sono il nostro futuro sono le persone che probabilmente e se siamo fortunati arriveranno all'università di padova a studiare e a progettare il futuro molto meglio per se stessi molto meglio di come noi possiamo fare per loro però una cosa che noi possiamo fare è lasciare un'eredità importante e questa eredità è fatta anche di storie che che sono storie libere sono storie che raccontano di persone libere che hanno fatto liberamente la storia della scienza la storia dei saperi la storia dell'arte la storia delle persone che sono passate di qua e che con la loro lungimiranza hanno cambiato il corso degli eventi storici ma anche scientifici ma anche culturali nel senso ampio quindi noi abbiamo pensato ad una collana di libri che raccontassero le storie di persone che hanno avuto per questa visione libera nella loro professione nel loro modo di stare all'università di padova e che in questo modo hanno prodotto conoscenza libera per tutti e tutte questo progetto oggi è al sesto alla sua sesta pubblicazione e si è occupato di personaggi molto grandi ogni libro è dedicato ad una storia e un personaggio a più personaggi che girano attorno ad una grande scoperta e ha un grande balzo in avanti per la scienza e la conoscenza siamo partiti da galileo galilei con noi galileo e la luna abbiamo fatto un salto di tre secoli nel novecento dal seicento al novecento raccontando la storia della grandissima milla baldo ceolin che si è occupata in maniera antesignana di fisica delle particelle siamo ritornati al cinquecento a scoprire le origini della scienza anatomica e come questo ha cambiato la medicina grande grande andrea vesaglio che ha lavorato a padova appunto in quegli anni abbiamo poi riscoperto una figura importante che enrico bernardi un ingegnere che è stato il primo a progettare le prime autovetture in italia a fine ottocento e poi ha dato impulso alla l'ingegneria applicata alla produzione di auto vetture siamo passati al collezionista di mostri che racconta la storia il lavoro di antonio valisneri nel settecento uno scienziato molto poliedrico che in particolare si è dedicato allo studio della natura e arriviamo allora con questo sesto volume al sogno alla velocità della luce che racconta del grande matematico tullio levici vita e non solo di lui ma di sua moglie libera trevisani anche lei una scienziata che si occupava del movimento dei corpi celesti e che insieme hanno fatto un pezzo di storia dell'università di padova ma anche della scienza in italia e nel mondo a cavallo tra nella prima metà del novecento sostanzialmente ecco allora io non voglio dirvi niente di questo libro perché vi sarà raccontato bene dopo di me però mi va di di dire che a me questo libro è molto piaciuto devo ringraziare manuela nava la scrittrice e marta pantaleo la l'illustratrice perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro per regalandoci questo testo ricco molto suggestivo e anche felice per un modo che ha di intrecciare storie di persone storie di scienza cioè di persone scienziate scienziati ma anche storie di guerra e razzismo da una parte amore dall'altra di fisica e di metafisica di storie sulla ricerca scientifica più avanzata che si potesse immaginare all'inizio del novecento che però fanno tesoro della letteratura italiana che celebra quest'anno i 700 anni dalla morte di dante e in questo libro ci ricordano ci questo libro ci ricorda attraverso la posizione della della moglie di tullio levi civita libera trevisani che la morra muove il sole e le altre stelle a me piace molto questo tributo dantesco e mi piace molto perché fisica e metafisica si tengono da sempre si confrontano con il grande mistero che l'universo e questo libro trova l'universo nella vita nel cuore delle persone ma anche nel loro lavoro di scienza questo è un regalo molto bello che faremo ai nostri ragazzi e le nostre ragazze e c'è un progetto appunto che li coinvolge che questo raccontare storie libere di cui agnese vi parlerà grazie e buon ascolto grazie grazie mille professoressa si ha dato tantissimi spunti che ci introducono sempre di più a questo racconto questo libro tra l'altro mi aggancio subito al del progetto raccontami una storia libera vi parlerò alla fine di questo incontro così vi vi do un altri appuntamenti dedicati appunto a questo libro ma non solo all'intera quella storia libere e mi piace sottolineare una cosa importante che ha detto la professoressa che poi adesso cominceremo ad approfondire di più fino ad arrivare a parlarne con i nostri ospiti e che è il fatto che in questo libro si racconta di scienza e di persone di persone dietro la scienza storie quindi anche di queste persone e proprio durante questo evento avremo anche modo di conoscere le persone dietro questo libro perché c'è sempre qualcuno che il libro lo fa qualcuno che ci lavora quello che ci mette tutta l'idea il pensiero tutto il suo lavoro e la passione e quindi colgo l'occasione per dare subito la parola salutando la professoressa analisa obo e ringraziandola per l'intervento a patrizia zerbi benvenuta patrizia buonasera patrizia zerbi che è editrice direttrice editoriale della casa editrice di questo libro di questa collana quindi cartose edizioni lascio a te la parola patrizia per dire due parole su quello che è stato il lavoro dietro la realizzazione di di quest'ultimo di questo sesto volume della collana storie libere è un viaggio che è iniziato molti anni fa come diceva analisa obo e quando ci avete chiesto di affrontare con voi questo viaggio per arrivare il famoso 2022 i vostri 800 anni abbiamo pensato questa collana con un taglio molto particolare c'è una collana di narrativa illustrata quindi l'obiettivo qualunque figura andiamo ad affrontare e che ha elencato analisa le figure finora realizzate cerchiamo sempre di trovare un modo coinvolgente per arrivare ai ragazzi perché sono i nostri lettori perché noi lavoriamo siamo una casa editrice proprio che ama moltissimo i ragazzi e pensiamo che sia davvero importante arrivare a loro allora arriviamo subito a questo tema che è stato ecco ogni ogni storia ogni libro cerchiamo sempre di trovare il punto di vista dei ragazzi quindi ci sono sempre protagonisti ragazzi bambine bambini o adolescenti che affiancano il personaggi che noi andiamo ad affrontare ed è successo così anche con un sogno la velocità della luce eh l'università ci ha dato tantissimo materiale è arrivato eh materiale ricchissimo e soprattutto molto innovativo e questo è importante perché la partenza è quella della ricerca viene fatta da voi da loro e quindi è importante quello che arriva in casa editrice e tutto questo ci ha permesso di guardare di di vedere che cosa potevamo venire quale quale strada poteva essere scelta per una figura così importante come Tullio Levi Civita che però aveva anche una storia particolare il suo rapporto con Einstein tutto tutta la comunicazione la scrittura queste cose epocali no del dell'aver scoperto addirittura dato delle 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 indicazioni a a un calcolo differenziale sbagliato no quindi è e abbiamo avuto un piccolo problema di di connessione con Patrizia comunque e nel frattempo eh eccoci qua Patrizia sono tornata solo un attimo sei tornata perfetto noi siamo abbiamo aspettato bene non è stabile la mia connessione allora eh da quel momento da quando abbiamo avuto modo di vedere tutta la documentazione che il il centro vostro di studi che aveva dato e a medio keller agnese suonato ci hanno messo a disposizione allora finché si ci scusiamo per questo disagio ma eh capita il bello di bello gli imprevisti degli eventi realizzati online Patrizia che abbiamo persa di nuovo allora noi nel frattempo abbiamo iniziato a guardare anche l'interno del libro va bene così per chi tutto vedere io ce l'ho qui con me eccomi qua e questo libro così vedete anche il formato che ha questo libro possiamo scorrere un po' gli interni un po' raccontandolo mostrando l'interno del libro in modo tale che eh anche chi non non ce l'ha in possesso possa lo può vedere vuoi proseguire posso parlare vediamo se mi sentite di nuovo se sono tornata udibile allora eh la struttura essendo una un diciamo un libro di narrativa illustrata noi cerchiamo sempre di privilegiare anche la parte iconografica illustrativa perché per i ragazzi sono due linguaggi fondamentali quindi la scelta dell'autore un'autrice come Emanuela la formazione è un amore non per la scelta per la narrativa per la letteratura e ha trovato un taglio a lei la scelta che ha fatto che io ho trovato assolutamente eh attraverso le figure laterali non è caso lo diciamo ci sono delle figure che non sono fondamentali alcune sono eh storiche no Tullio Levi Civita Libera Trevisan però c'è Edmea e la zia Tilde che sono le figure che fanno da contraltare e che raccontano invece l'altra parte del sogno alla velocità della luce vai a scorrere Agnese facciamo vedere le la struttura è quella della parte narrativa come vedete come essendo un libro che ha molto testo anche è un breve racconto ma è un racconto è un romanzo un breve romanzo e poi si alternano le pagine invece di illustrazione con la scelta anche lì è stata quella che ho pensato di chiamare un'illustratrice secondo me fortissima perché è della nuova generazione eh che ha dato una un taglio anche innovativo a questa figura di Tullio Levi Civita e di Libera Trevisan e e lo vedete nella nel taglio poi ne parleremo più avanti eh l'idea è quella anche di restituire l'atmosfera di questa storia quindi quello che succede essere un elemento forte della figura così anche libera davvero libera Trevisan ha significato anche una grande attenzione nei confronti delle donne la sua partecipazione a un momento storico del voto del primo voto 46 quindi insomma la secondo me la l'illustratrice Marta è riuscita Pantaleo è riuscita a restituire benissimo scorrono le immagini se le fate ancora girare ecco questa è la figura di Libera Trevisan che era una una figura davvero matematica incredibile donna intelligente molto appassionata con un grande rapporto d'amore ed era la moglie no di Tullio Levi Civita però aveva una sua forte personalità quindi le sono le figure che ruotano intorno a loro vai avanti il romanzo poi breve romanzo si chiude con invece delle schede di approfondimento che sono quelle che affrontano poi la la struttura la struttura il centro di ricerca dell'università e che hanno una stretta relazione però con la parte narrativa non a caso trovate dei codici dei dei simboli tematici alle alla pagina che vi riporta gli approfondimenti quindi questo permette un altro tipo di lettura una lettura o continuativa oppure per chi è curioso vuole andare a approfondire passa subito alle schede che sono state organizzate sui punti fondamentali che il racconto affronta l'idea di dare un'immagine completa profonda ma anche molto accattivante che sia a misura di ragazzo e di ragazza è una fascia di età che va dalle nelle scuole diciamo il secondo ciclo delle scuole elementari quindi da ragazzini dagli otto ai dodici anni è perfetto questo libro proprio perché è a misura loro e penso che abbia restituito a alla figura di Tullio Levi Civita ma anche alla libera Trevisani con Edmea e la zia Tilde un grandissimo spessore anche abbia restituito il senso del tempo che dove loro hanno vissuto che l'hanno caratterizzato allora grazie mille Patrizia Zerbi per questa completa introduzione come avete potuto vedere insomma c'è una struttura ben distinta all'interno del libro per cui alla parte narrativa sono affiancate sul finale delle schede che vengono scritte schede di approfondimento e che raccontano gli aspetti storico scientifici in maniera dettagliata e rigorosa del a cui fa riferimento la narrazione seppure basata su fatti personaggi storici realmente esistiti realmente accaduti e allora passerei subito a vi avevo accennato prima appunto avevamo previsto all'interno di questo evento due piccolissimi momenti interattivi vi spiego come funziona questa prima volta qui così poi la secondo momento è allora vi basterà avere una connessione internet ma ce l'abbiamo perché siamo tutti qui collegati io vi metterò un link in chat tramite potete partecipare a questo primo nostro momento un po' interattivo perché allora perché ci piace un attimo entrare nel vivo della storia dell'argomento di questo libro che è un argomento molto originale anche molto complesso se vogliamo perché parla di di matematica sì ma matematica tra l'altro che ha uno sbocco che ha un agame molto forte con una teoria che tra l'altro di solito si studia in fisica e quindi quella della relatività generale di einstein e poi ha degli aspetti che però sono legati sia la matematica ma anche appunto alla storia del periodo in cui è vissuto tiro la vicivita che dopo appunto approfondiremo e poi perché siamo comunque novecento siamo nella seconda metà del novecento anzi a cavallo della metà del novecento per gli anni che noi su cui siamo soffermati nel racconto e quindi la matematica è legata a molti altri aspetti che magari non ci non ci immaginiamo oppure su cui possiamo riflettere e allora prima di appunto aderci a parlare con autrice e il nostro nostro professore che avremo ospite qui con noi oggi vi vi invito a partecipare a questa breve attività avete due modi per partecipare è un modo per creare in tempo reale un work cloud quindi cos'è sostanzialmente un brainstorming intorno alla parola matematica noi vi chiediamo di partecipare con noi e di raccontarci cosa vi ricorda la parola matematica ecco d'accordo vediamo comparire non abbiate paura basta usare il link che vi ho inserito nella chat e seguire le istruzioni di quello che vi viene viene proposto e oppure avete una alternativa che a seguire le istruzioni che leggete in alto nel non mi vengono chiesti dati non mi viene richiesta iscrizione né niente per cui potete partecipare liberamente e abbiamo intanto che sono emerse queste due parole qui queste parole qui ecco che si sta allargando maestra claudia d'accordo la vediamo papà professore perché abbiamo legame pi greco eleganza vediamo che emergono degli aspetti interessanti numeri emerge d'accordo numeri è quello più più utilizzato allora attendiamo ancora magari ok che aumenta gioco molto sfida creatività e d'accordo poi abbiamo precisione che emerge moltiplicazione e vediamo ma guarda quanti enigma bello molto bello vediamo musica progetti futuro precisione rigore logica ansia d'accordo bella ma impossibile molto interessante anche questo allora dopo insomma avremo modo è bello anche che attraverso un libro che abbia una storia un racconto fatto come quello che ha scritto e manuela nava si possano affrontare queste tematiche che comunque appunto la matematica per qualcuno può rappresentare una sfida o qualcosa di difficile da superare d'accordo allora noi vi ringraziamo per questi spunti perché poi li riprenderemo vediamo un po ama va avanti qui e attenzione perché non voglio formule sfida vediamo se troviamo qualcosa di conto numeri ci siamo è bello che ci siano anche termini come creatività e le gambe progetti gioco abbinati appunto a un emergere di difficoltà nei confronti di questa materia è perché la scienza comunque nasconde anche delle difficoltà ma è tramite le difficoltà non che poi si arriva anche le più grandi teorie che hanno rivoluzionato il nostro modo di interpretare il mondo d'accordo allora lo spendo un attimo questa questa attività se qualcuno è rimasto a qualcuno ha scritto in chat ragionamento d'accordo forse era una parola in più che si vuole aggiungere molto bello che ce lo scriviate anche in chat e allora comunque vediamo che insomma al centro c'è numeri e questo abbastanza eh forse ce lo potevo immaginare giustamente e però ci sono tantissimi spunti nel mezzo spunti che tra l'altro sono serviti per la narrazione del libro un sogno alla velocità della luce e che eh possono farci anche vedere altri lati della matematica altri aspetti della matematica e allora io interrompo eh un attimo questo gioco vi ringrazio di aver partecipato tanto poi ne faremo un altro e continueremo e allora ne approfitto quindi per dare il benvenuto e saluto con questa introduzione alla matematica chi se non il nostro ospite matematico il professor Franco Cardin del dipartimento di matematica dell'università di Padova che tra l'altro si chiama Tullio Levi Civita dedicato a lui quindi ehm appunto questo grande personaggio e eh voglio chiedere al professore appunto di quale matematica si parla nel libro e quindi e che cosa eh quali sono le connessioni tra questa matematica e appunto la grande teoria che ho parlato più volte di Albert Einstein e chi è Tullio Levi Civita quindi chi è questo personaggio? Buonasera professore le chiediamo eh bene buonasera grazie grazie mille beh devo dire prima di tutto che dobbiamo essere grati all'autrice all'editrice e me ne sono accorto all'ultimo quando è stato stampato veramente all'illustratrice a Marta Pattaleo e veramente questo per me è stata una grande sorpresa veramente una meraviglia questo libretto Tullio Levi Civita Tullio Levi Civita è un personaggio centrale nella nella storia della matematica direi mondiale ma prima di tutto di Padova cosa successe? Qual è il diciamo proviamo proprio a riassumere brevemente insomma ci fu verso la fine dell'ottocento no quella che possiamo chiamare proprio una rivoluzione padovana della matematica il primo uomo il primo scienziato che fu proprio l'artefice di questa rivoluzione fu Gregorio Ricci Curbastro Gregorio Ricci Curbastro che diciamo nella nei suoi viaggi scientifici giovanili andò in Germania a Monaco imparò le idee di Riemann un altro grande che fu a sua volta allievo del grandissimo Gauss che questo invece è un nome che è veramente di grande risonanza ebbene Ricci brevemente insomma si portò in casa questa teoria la meditò e capì che non era completamente diciamo intellettualmente metabolizzata capita e lui fece proprio l'inizio iniziò questa grande rivoluzione che fu di rendere questa teoria che parlava della geometria che parlava della geometria delle superfici in ambienti dimensionali molto grandi difficilmente immaginabili dal punto di vista dell'intuizione e lui riuscì a trarre queste nuove idee da Riemann e porle ecco questa la grande novità in una forma assolutamente oggi si dice covariante ma vuol dire invariante rispetto all'uso delle coordinate con cui si studiano questi oggetti non mi dilungo di più su questo ma questo fu veramente un salto di qualità radicale questo siamo negli anni diciamo 70 80 dell'ottocento e arriva a questo punto Levi Civita Levi Civita questo giovane veramente formidabile suo allievo si laurea a 22 anni insomma già a 22 anni ha lavori pubblicati e comincia a cooperare ed è l'esplosione veramente di questa nuova teoria che si chiama calcolo differenziale assoluto calcolo differenziale assoluto gli anni 90 sono gli anni proprio della grande produzione di questa teoria cosa succede si arriva al novecento a fine a fine secolo diciamo un grande matematico invita questi due ricci e Levi Civita a scrivere un trattato loro un lungo articolo di rassegna loro lo fanno ma diciamo che la comunità non accetta molto questo la comunità è un po restia e resta fredda dice ma queste cose sono belle un po complicate si può fare come prima c'è sempre c'è un conservatorismo diciamo di difesa che getta un po' di sconforto diciamo ricci ma Levi Civita invece è giovane di altissima intellettualità produttiva non si scoraggia però decide dopo questa diciamo batosta di non studiare più la geometria differenziale e per 15 anni diciamo dal novecento al quindici al millenovecento quindici si occupa di cose veramente una specie veramente diremmi da quello che toccava diventava oro scientifico studia la meccanica analitica la meccanica celeste newtoniana il problema dei tre corpi addirittura in questo periodo proprio sul problema di meccanica celeste la teoria dei nodi lunari da una tesi di laurea alla giovane libera trevisani sua allieva che poi che poi sposerà insomma questo lavoro di tesi poi sarà anche pubblicato un bellissimo lavoro e comunque cosa succede succede che questa succede una cosa quasi mi pare schespiriana no nel senso che intanto c'è einstein che sta studiando la generalizzazione alla gravità della sua teoria del 1905 ma non riesce a darne fuori perché deve muoversi in spazi astratti deve metterci delle metriche deve fare qualcosa che capisce che la geometria di rima è quella importante ma non riesce a usarla e per fortuna trova il suo amico marcel grossman che lo aiuta gli dice marse aiutami tu sennò io impazzisco verbatim come si suol dire e marcel grossman conosceva la teoria di ricci e le vicività gliela insegna in sostanza gliela illustra e stai insomma coglie subito l'importanza di questa cosa e scrivono i primi tentativi della teoria della relatività generale i primi il primo lavoro è proprio a due firme einstein e grossman questo lavoro del 13 del 1900 viene nelle mani di un fisico classico amico di le vicività che si chiama max abram del togli tecnico di milano un grande fisico è un veramente un grande fisico ma che rifiutava queste idee relativistiche nuove insomma molto conservatore in questo senso e chiamò a istegno disse senti caro tullio tu che conosci queste cose che mi pare che il linguaggio sia questo leggi e cerca di dismontare queste queste nuove queste queste fantasie parascientifiche e in modo da restituirci la nostra vecchia e buona fisica classica tullio prende questa cosa un po a malincuore perché max habra il suo caro amico e comincia a leggere e scopre e scopre quello che si doveva scoprire che lì dentro c'è la teoria loro la teoria di ricci e sua che è messa proprio come una un'applicazione naturale alla fisica tutta quella geometria diventa fisica e a istin l'aveva capito lui di resta entusiasmato da questa cosa quindi quasi quasi un motore quasi maligno diventa virtuoso no in questo senso volevo dire sciaspiriano e cosa succede succede che legge trova un errore che è già stato anche anticipato precedentemente e comincia a scrivere come già scrivere alle vicinità le vicinità lo ringrazia ma dice no no guarda è giusto tutto il la prima metà del 1915 si scrivono si scambiano alla fine Einstein capisce dice guarda caro tullio ti ringrazio hai perfettamente ragione senza di te non questa teoria non avrebbe ha trovato il giusto giro di boa insomma e questa è l'ultima lettera e siamo al 20 22 maggio e poi è finita perché la guerra no l'italia entra in guerra e quindi l'inter si rompe la corrispondenza anche con berlino anche se non c'era la guerra con berlino direttamente in quel momento ecco questa è la cosa fondamentale ed è la cosa ulteriormente eclatante è che un anno dopo le vicinità prepara un quella che si chiama la teoria del trasporto parallelo non ne parlo assolutamente tecnicamente ma è stata un'altra nuova rivoluzione che ha aperto frontiere che ancora si studiano oggi insomma le teorie delle connessioni eccetera ebbene ebbene quella teoria in questo articolo è il ritorno alla geometria differenziale di le vicinità e scrive nell'introduzione di questo articolo pubblicato all'inizio del 17 è pubblicato dei rendiconti del circolo matematico di palermo scrive io spero che questa mio contributo sia utile al mio collega amico signor alberto Einstein perché una volta si usava a mettere la parola italianizzato alberto Einstein la sua grande bella teoria è una cosa molto bella guardate perché siamo nel 17 è una carneficina la guerra è anche con la germania insomma e c'è questa bellissima aspetto che una rivista italiana accetta anche una introduzione di questo tipo dove si parla con amicizia di un tedesco guardate non è una cosa da poco pensando a quale era la cultura di allora e comunque questa è la vicenda molto importante il tuo io poi resterà il divulgatore internazionale della relatività generale scrisse libri eccetera ebbe molti allievi ebbe molti allievi nel 38 fu licenziato dalle infami leggi razziali morì praticamente di crepa cuore nel 40 e guardate che mentre molti altri suoi colleghi coreligiosi diciamo andarono all'estero e furono accolti a braccia aperte lui decise di restare in italia vicino ai suoi allievi perché questo lo scrisse intanto l'altra grande protagonista libera libera trevisani lo accompagnava sempre nei suoi tour scientifici ma lei divenne una forza intellettuale morale direi tra le insegnanti scientifiche della matematica fu direttrice dell'associazione di tali insegnanti un'associazione che fu sciolta naturalmente dal volgarmente da quel regime di cui abbiamo parlato e continuo a operare anche dopo la guerra io penso che possa fermarmi qui se avete delle domande molto ben vorrei dire grazie mille professore mi sono dimenticata di dire prima che se avete qualche domanda senz'altro come ci avete mandato dei commenti in chat potete farci delle domande poi io le posso riportare professore oppure i nostri prossimi ospiti e allora noi ringraziamo per questo approfondito inquadramento su quello che è la matematica e il personaggio di vi civita che però abbiamo detto come citato altre volte che si è inserito in un contesto storico ben preciso tra l'altro un contesto storico non facile prima nel primo esercizio interattivo è venuto fuori che la matematica è venuto fuori qualcuno che ha espresso delle difficoltà della difficoltà nell'approcciarsi alla matematica e in realtà questa queste vicende narrate molto bene da Emanuela Nava si ambientano e nascondono delle difficoltà a cui magari pensiamo quando pensiamo alla storia della scienza perché la scienza e la sua storia sono intrecciate e strettamente collegate con quella che è la storia della società della nostra cultura e dell'evoluzione della nostra cultura allora io per questo per approfondire questo aspetto vi condivido un contributo video che c'è stato registrato dalla dottoressa simone del dipartimento di scienze politiche giuridiche e studi internazionali della nostra università l'università di padova e lascio che sia lei raccontarla in maniera molto divulgativa e molto appassionante questo è tutto Tulele Vicivita nasce cresce e studia a padova a cavallo tra due secoli l'ottocento e il novecento è un giovane davvero brillante geniale ha voti altissimi al liceo titolivio dove studia e poi si iscrive all'università di padova dove appunto si laureerà in matematica e dove dopo inizierà di insegnare ad intraprendere la carriera di docente universitario qual era la padova di allora era una padova senz'altro in via di formazione e in via di mutamento intanto Tulele Vicivita era figlio di un personaggio davvero importante per la storia della città di padova suo padre Giacomo era un famoso avvocato e all'inizio del novecento diventa anche sindaco della città di padova dobbiamo sottolineare che allora un Levi Civita ovvero un un ebreo diventare sindaco di una città italiana era qualcosa veramente di nuovo di innovativo e ci dà il sentore di quanto la città di padova allora fosse aperta e pronta a rinnovarsi infatti Giacomo Levi Civita spendo due parole sulla figura del padre perché è senz'altro interessante per capire anche la formazione del figlio Tullio appunto conduce guida la città di padova verso un rinnovamento rinnovamento a livello sociale rinnovamento a livello educativo e anche rinnovamento a livello edilizio e qui c'entra un po' anche l'università di padova perché proprio nel agli inizi del del novecento il rettore di allora il rettore nasini riesce a costituire un primo consorzio in cui parte appunto anche la padova democratica di Levi Civita che porta un rinnovamento delle strutture dell'università di padova rinnovamento delle strutture ma rinnovamento anche degli indirizzi di ricerca perché si hanno più laboratori si hanno più più stabili e quindi Tullio Levi Civita si forma costruisce il proprio il proprio sapere scientifico in quest'ambiente in questa città molto dinamica la padova di inizio novecento ci porta ad affrontare il nodo della prima guerra mondiale la città di padova una città dove appunto si scontrano nazionalisti quindi gli interventisti di destra diremmo oggi con tutta una componente di sinistra e pacifista e sappiamo che appunto lo scambio epistolare fra Levi Civita e Einstein avviene proprio in questi anni e i due sono accumulati anche dal fatto di avere delle posizioni pacifiste di fronte al conflitto europeo. Dopodiché Tullio Levi Civita si sposta, si trasferisce a Roma dove viene chiamato all'Ateneo Romano per chiara fama quindi ovviamente il suo nome è già conosciuto a livello nazionale ma anche europeo e internazionale però mantiene il legame con Padova un po' per le origini un po' perché l'Ateneo ci tiene a sottolineare di aver avuto un Tullio Levi Civita come proprio allievo e come proprio docente e la nomina docente onorario. Questa nomina avviene tra l'altro nel 1922 quando l'Ateneo di Padova un secolo fa si trova a festeggiare il suo settimo centenario e quindi decide di assegnare questa qualifica a Tullio Levi Civita sebbene il docente non fosse minimamente andato in pensione era appunto ancora in carriera all'Università di Roma. E qui arriviamo al momento più buio per l'Italia di allora per la Padova di allora e anche per Tullio Levi Civita intendo il 1938 e la promulgazione e la conseguente applicazione delle leggi razziali. Tullio Levi Civita è ebreo viene indicato come tale nel censimento che l'Ateneo deve fare e questo avviene ovviamente a Roma dove è incardinato ma anche nella città di Padova perché il rettore di allora Carlo Anti appunto contando proprio facendo l'elenco dei nomi dei docenti ebrei appartenenti all'Ateneo Patavino inserisce anche il nome di Tullio Levi Civita. Il nome di Levi Civita deve scomparire, si deve scendere qualsiasi legame tra lui e il go. E quindi cosa avviene? Avviene che il nome di Tullio Levi Civita ad esempio non compaia più negli annuari dell'Ateneo di Padova. Fino al 38 il suo nome viene riportato quindi questo legame viene tenuto vivo, viene tenuto in considerazione, dopo il 1938 il suo nome viene depennato e di lui l'Ateneo di Padova non manterrà più alcun, non ci sarà più alcun rapporto, non verrà ovviamente ricordato al momento della morte, non ci sarà nessun cenno da parte dell'Ateneo di Padova nei confronti della figura di questo maestro e appunto il suo nome verrà fatto scomparire all'interno delle aule del BOM. Ecco allora la dottoressa Giulia Simone appunto ha rilasciato questo questo breve intervento per il BOLA, giornale dell'Ateneo dell'Università di Padova, per raccontarci un po' quali sono, qual era appunto il contesto storico in cui si ambientano le vicende del libro, che è un contesto come abbiamo visto molto complesso, anche molto ricco insomma di, suscita diverse emozioni perché magari sono anche eventi, fatti che abbiamo studiato, abbiamo affrontato in altri atti e ci fa vedere come appunto ci sono tante vicende nascoste dietro quella che è lo studio, una nuova teoria scientifica, quello che è appunto la storia di scienziate e scienziati e tra l'altro questo libro vuole anche andare un po' incontro al fatto che ci piaceva ritirare fuori quella figura che comunque è stata fondamentale per la storia della scienza a Padova ma non solo insomma in tutto il mondo proprio per i contributi che ha portato per farla riemergere e raccontarla ai giovani. E allora dopo come ultimo intervento con noi avremo quello dell'autrice che ci racconta la storia, le vicende che lei ha narrato e come ha reso questi racconti nella parte narrativa prima di passare alla all'autrice volevo volevo condividere con voi un'altra un'altra schermata attorno al gioco che abbiamo fatto prima ecco questo era il risultato poi nel frattempo ho visto che qualcuno ha completato un po' dopo e quindi sono comparse altre parti e per farvi vedere l'ultimo l'ultimo momento che abbiamo preparato da condividere insomma insieme a voi a cui farvi partecipare. Come prima io adesso vi condivido invece il nuovo link per poter partecipare funziona allo stesso modo vi basterà cliccare su quel link oppure con l'altra strategia insomma partendo dalle istruzioni che leggete in cima a questa schermata e vi chiediamo perché sogno appunto andiamo a parlare anche con l'illustratrice proprio di cosa lei ha preso di tutto questo contesto scientifico storico e come l'ha reso adatta a un racconto per ragazze e ragazzi e ci soffermeremo anche su il titolo che è un titolo che attira molto l'attenzione ricorda alcune parole che voi avete tirato fuori intorno alla matematica che appunto il titolo è un sogno alla velocità della luce e vi chiediamo perché sogno secondo voi c'è cos'è il sogno come è stato interpretato questo sogno all'interno di della narrazione all'interno di questo libro sempre cliccando sul link potrete potrete dirlo alla vostra quindi scrivete quello che volete compariranno questa volta non tanto delle parole ma appunto sono delle frasi che potete mettere compariranno sotto forma di piccolo box rispetto attendiamo ci diamo un minuto minuto e mezzo potete dire quello che quello che vi viene in mente insomma quello che ritenete vediamo qual è la prima la prima idea che emerge si tratta insomma di un piccolo momento anche se vogliamo di condivisione di sogno matematica storia perché sono sono connesse tra di loro vediamo la matematica ci permette di esplorare l'infinito fuori ma anche dentro di noi questo è un ragionamento molto molto profondo molto articolato bello vediamo se arriva qualcun altro anche cose proiezione in un futuro positivo d'accordo vediamo se qualcuno vuole lanciare in questa intanto vedo e mi arriva sempre in chat una cosa che si desidera dalla nascita è molto interessante anche questo facciamo come se fosse comparso nella nostra attività condivisa vediamo se arriva qualche altra idea e se non ce la potete scrivere in chat questo questo link rimane attivo quindi anche mentre magari manuela nava può può raccontarci di più la matematica non si tocca ma è solo immaginazione ok questo è un commento molto interessante non tocca vero o immaginazione questo è molto articolato poi magari se vediamo di approfondirlo allora io vi lascerei attivo comunque questo link per uscire dagli schemi interessante anche questo allora lo lasciamo attivo potete scrivercelo anche in chat a questo punto comunque lui rimane nel frattempo e dopo lo riapriamo alla fine perché do i numeri d'accordo arrivano arrivano vedere oltre d'accordo e allora finché continuiamo con questo possiamo anche rileggere alla fine dopo che manuela nava ci ha detto anche la sua visione insomma oppure ci ha raccontato qualcosa io interrompo la condivisione appunto lo vediamo alla fine se si è voluta la l'attività la schermata intanto quindi chiamerei emanuela nava che qui collegata con autrice di questo libro e le chiederei proprio di raccontarci cosa a eccoci qua eccomi vediamo quest'ultimo viene dato da una persona a cui vuoi bene ok allora molto molto interessante quello che ci sta arrivando allora emanuela io lasciate la parola per raccontarci un po che cosa hai messo in questo libro e personaggi la storia il titolo lascio ti lascio libera di raccontarci va bene va bene un attimo che ho facendo un po di confusione ecco va bene allora intanto grazie per avermi invitato un caro saluto tutte le persone che sono presenti voglio dire allora anch'io la mia sulla matematica ma parto da una cosa scientifica cioè dall'etimologia delle parole che ricorre anche nel libro che è la mia grande passione tutti coloro che mi conoscono lo sanno matematica significa è dal greco l'arte dell'insegnamento e insegnamento cosa significa lasciare un segno e infatti ci si usano i segni nella matematica dai partendo dal più dal meno dal diviso dal per e tutti gli altri segni che si usano comunque quando si risolvono equazioni insomma forme complicate ma di fatto c'è un insegnamento come diceva prima anche la professoressa quasi fisico e anche metafisico in un certo senso perché la matematica è anche l'arte dell'invisibile un po come è la fisica e quindi ci permette come Einstein faceva nel suo volere anche dimostrare teorie così difficili anche con una grandissima immaginazione un'immaginazione quasi trascendente che va oltre no quello che il tangibile ed è questo che a me ha sempre molto appassionato io dico sempre ridendo nonostante abbia fatto il liceo scientifico sono poco scienziata ma sicuramente della scienza amo questa possibilità di andare avanti questo questo nutrirsi di dubbi e questo continuare a in modo quasi utopico continuare ad andare verso un luogo che forse non c'è ma che ci fa sempre andare avanti sempre sempre di più e a volte anche tornare indietro e quindi correggere i propri errori come nel caso del rapporto che c'è stato tra Einstein e Tullio di Vicivita e qua mi permetto ancora di tornare in quello che il campo mio che quello delle parole perché io amo tantissimo le parole e soprattutto delle parole amo proprio la loro origine e il loro significato profondo e quando scrivo vado sempre a cercare tutti gli aggettivi ogni a volte dice questo aggettivo l'ho già usato no questa però devo trovare un sinonimo e ma non è sufficiente cercare il sinonimo del sinonimo bisogna cercare anche l'etimologia riuscire a trovare l'aggettivo esatto e allora c'è questa cosa che secondo me è grandissima soprattutto per chi ha a che fare con i ragazzi sia i genitori sia gli insegnanti ecco l'insegnante che è l'arte dell'insegnamento che lascia il segno che non è appunto come dicevo prima solo un segno fisico ma anche metafisico nel senso che l'insegnante lascia un segno all'allievo allievo è proprio dato viene della parola allere che significa nutrire è colui che viene nutrito e il grande segno da lasciare sempre giocando con questa meravigliosa scienza che è l'etimologia tra la differenza che la differenza che c'è tra errore e sbaglio noi purtroppo spesso è un po limitiamo i nostri ragazzi perché facciamo temere loro gli errori e userebbe forse fare temere gli sbagli più che gli errori ma sappiamo quanti ragazzi non vogliono mai compiere errori si mettono a cancellare altra parola molto significativa cancellare il loro foglio facendo buchi nel foglio oppure adesso noi col computer facciamo prima perché andiamo tutto nell'etere però attenzione perché l'errore viene da errare errare significa provare riprovare vagare significa soprattutto muoversi non essere diligenti come la diligenza che fa sempre la stessa strada e non cambia mai invece errare significa sbagliare tornare indietro riprovare quindi compiere un grande movimento alla ricerca e infatti gli scienziati fanno questo questa capacità di errare proprio cioè di muoversi e di provare di riprovare lo sbaglio invece temologicamente ci riporta a un abbaglio quindi a una cecità momentanea che però ci ferma ci blocca mentre l'errore appunto a questo questo grande movimento cancellare addirittura che parte dal cancello una volta cosa si faceva si cancellavano le parole con un segno appunto quello del cancello che c'è rimasto come ashtang o cancelletto sul telefono perché bisognava vederlo l'errore non bisognava fare il buco per non vederlo più e questo è meraviglioso secondo me partire da questo libro anche per parlare della della bellezza dell'errare e questo ha permesso per esempio Einstein di arrivare appunto alla seconda teoria della relatività quella generale perché le cività gli ha fatto notare qual era l'errore ma a parte questo forse partendo sempre da questo mio entusiasmo e quindi amore per le cose per le parole per le storie posso dire che questa storia oltre ad essere una storia sicuramente di scienziati è una storia d'amore amore per la matematica amore per la fisica e grande amore tra Tullio Levi Civita e Libra Trevisani la moglie che diventa protagonista di questo libro e che ha questo sogno alla velocità della luce adesso io non lo so se è ammesso perché sarebbe un po uno spoiler spiegare perché il titolo è un sogno alla velocità della luce ma sperate di non sbagliare posso sbagliare di un abbaglio posso dire che la velocità della luce come viene dimostrata appunto nella teoria della relatività ci dice che più noi andiamo velocemente quindi più si va veloce in questo caso alla velocità della luce più il tempo si ferma quindi l'idea facciamo così per non spoilerare completamente diciamo che quando noi ci troviamo Agnese non so se mi permette di spoilerare mi correggerà insomma se noi ci troviamo in una situazione non bella e sicuramente per Tullio Levi Civita è stato orribile essere scacciato dall'università addirittura dimenticato si è cancellata ogni pensate che grande uomo era che grande scienziato e quindi è vero che è rimasto a Roma dove insegnava a quei tempi non era più a Padova è vero che è rimasto per i suoi lievi ma è vero anche che è stato per lui un colpo cioè una tristezza infinita e allora il sogno potrebbe essere questo che bello se lui avesse preso una navicella spaziale e fosse andato velocissimamente nello spazio per tornare dopo pochi minuti ma intanto sulla terra sarebbero passati almeno sette anni e beh insomma non ci sarebbe stato più il fascismo e lui avrebbe potuto ricominciare a insegnare questo è il grande sogno della moglie il sogno alla velocità della luce che però si intreccia con qualcosa appunto che non può variare come diceva prima professore di matematica e qui non mi addentro perché sicuramente di sbagli ma l'idea che ci sono cose che non possono variare sia appunto nella matematica della geometria e anche nei rapporti nell'amore l'amore quando è grande non neanche la morte lo spegne c'è qualcosa appunto che ed è l'amore appunto che muove il sole e le altre stelle io leggo soltanto poi se c'è tempo leggo ancora vorrei proprio leggere una specie di pre incipit che poi viene se si rileggia alla fine ed è questo lei aveva un sogno l'aveva custodito così tanto tempo nel suo cuore che quando decise di rivelarlo scese un silenzio irreale come se persino la terra avesse smesso di girare per trattenere il respiro anche noi siamo corpi celesti disse più tardi sorridendomi erano parole d'amore parole d'amore che non avevo mai udito prima grazie io dopo questa questa breve lettura non aggiungerei altro ringrazio veramente manuela nava di questa di averci raccontato questi questi pensieri queste anche questa passione che hai messo all'interno del tuo racconto della tua narrazione e che tra l'altro alcune parole che tu hai citato leggevo anche in chat che qualcuno ci ha scritto che quest'ultimo quindi il sogno viene dato da una persona a cui vuoi bene ci sono cose che riemergono e siamo un po in chiusura dell'evento con noi non abbiamo l'illustratrice oggi però allora fare per chiudere l'evento appunto essere ricollegata a patrizia zerbi a cui chiedo abbiamo un minutino per dire brevemente come sono state le illustrazioni in questo contesto e come che ruolo hanno avuto insomma che cosa che lavoro ha fatto marta ti lascio un attimo la parola saremo brevissimi e poi passiamo a chiudere l'evento e vi lascio con altre altre novità insomma patrizia te la parola sì agnese allora non c'è proprio non ha potuto esserci avrebbe fatto molto piacere essere qui con noi Marta è la secondo me l'illustratrice giusta se fate vedere le tue tavole perché ha questo segno fortissimo è veramente moderna come vi dicevo prima nella nell'introduzione e lo vedete qua qui rappresenta in qualche modo il senso di tutto il libro ed è riuscita a farlo raccontando un momento che è tra realtà sogno desiderio futuro ed è l'ha fatto attraverso il tratto attraverso la parte cromatica d'accordo intanto racconto un attimo io appunto patrizia sottolineava come la parte cromatica appunto questo segno forte si si vuole anche un po' contrapporre marcar questi elementi chiave che emanuele ha messo nella narrazione patrizia ecco adesso ti abbiamo ti abbiamo di nuovo con noi di nuovo la chiusura è la chiusura della storia d'amore perché è una vera grande storia d'amore sul fondo lei ha lavorato spesso anche su questi livelli no il primo piano il secondo piano dove il secondo piano racconta e quindi invito anche i ragazzi bambini e le bambine e ragazzine e le ragazzine a leggere le immagini che sono forti e che raccontano vanno oltre al racconto di manuela che questo che deve fare un libro riuscito secondo me questo è un bellissimo albri sono libro io sono orgogliosissima ecco grazie mille allora patrizia abbiamo visto brevemente le illustrazioni ma poi ne abbiamo viste anche durante gli interventi precedenti e poi appunto la copertina ormai ce l'abbiamo presente abbiamo vista più volte allora io in chiusura proverei a condividere un attimo per vedere se c'erano state delle azioni quindi brevemente della nostra sogno perché vivo perché la relatività fa signare perché la luce si perde nel profondo universale come i sogni allora grazie mille per queste condivisioni allora io riassumendovi che sono tutti gli spunti molto interessanti che sono serviti anche a emanuela insomma per agganciarsi con la sua vento e abbiamo visto un po in questo percorso quindi qual è la matematica che a volte può sembrare anche molto difficile anche quella è una tematica complicata quella attura quello la vicina cui ha lavorato quello la vicina quella dietro la relatività generale abbiamo visto come dentro questa storia ci sia un errore un errore che di einstein che le vicinità va a correggere qual è il significato di errore quindi anche questo messaggio molto importante abbiamo visto anche come questa vicenda si contestualizza in un periodo storico non senza difficoltà e quindi come portare avanti queste ricerche questi studi non sia stata una cosa facile seppure hanno appunto segnato la storia della scienza ma non solo insomma la storia in senso più ampio e poi con emanuela abbiamo sottolineato un po anche gli agganci legati a quello alle emozioni a quello che la matematica ci può queste storie ci possono alle emozioni che ci possono suscitare a quello che queste storie ci possono trasmettere di un po più esterno se vogliamo un po diverso dalla rispetto alla alla matematica e alla scienza così come magari l'entendiamo a cui siamo abituati a pensare ecco e ringrazio anche per i commenti arrivati in chat ci fa piacere insomma che sia stata passata la passione e che c'è dietro questo lavoro che ha fatto persone io appunto ne approfitto anche per ringraziare io sono agnese sonato e sono mi trovo in questo momento vedete alle mie spalle varie illustrazioni che sono tratte dalle varie collane vari libri che sta questa lavorando l'università di padova in collaborazione con cartose edizioni anche con un altro editore con cui abbiamo una collaborazione attiva sono nell'ufficio progetto bo 22 palazzo bo e che ringrazio insomma per il supporto per aver realizzato questo evento e abbiamo sempre dei commenti molto belli molto positivi e ci fa piacere che sia di aver suscitato questa questa passione aver trasmesso questa passione questo po di emozioni e ricordo un'altra cosa che in realtà tullio levi civita un personaggio a cui l'università di padova su cui l'università di padova tornerà in particolare lo so che è presto per dirlo ma è già pubblica la data e è già ufficiale il 23 maggio 2022 in sala dei giganti a padova ci sarà uno speculo teatrale per adulti ea cura di teatro boxer che ha scritto lo spettacolo e condotto da andrea pennacchi uno spettacolo proprio è dedicato a tullio levi civita potete fare le informazioni sul sito dell'ateneo come anche sul sito del dipartimento di matematica potete trovare informazioni su un premio che è stato indetto un premio per tesi di dottorato se conoscete qualcuno che si sta occupando sta facendo dottorato in matematica in alcuni ambiti specifici che vi invito ad andare a controllare insomma invitare a controllare a chi insomma il premio si può rivolgere quindi a studenti di dottorato è un premio tullio levi civita proprio quindi per tesi dottorato quindi anche questo personaggio abbiamo pensato di ritirarlo fuori perché appunto emergano queste figure lui come anche le figure che hanno vissuto con le vicende legate alla matematica e non solo le sue vicende storiche e di vita quindi con questo vi vi salutiamo vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo sicuramente per speriamo con le prossime uscite della collana storie libere buona serata a tutte buona serata ringrazio i vari relatori presenti buona serata